Siamo in Palazzo del Pegaso in via Cavour a Firenze, sede del Consiglio regionale della Toscana. Alla presenza del Presidente del Consiglio stesso Eugenio Gianni è stata presentata la 47esima edizione della mostra del tartufo bianco di San Mignato. Alle mie spalle vediamo una splendida rappresentazione di quelle che sono le eccellenze che si troveranno a San Mignato in tre fine settimana consecutivi. Ma andiamo a sentire le interviste realizzate in sala stampa. San Mignato al tedesco, la città che fu eletta dall'imperatore, prima Federico Barbarossa e poi Federico II, ad essere in qualche modo la capitale della Toscana. Era l'undicesimo, il dodicesimo secolo. In realtà questo luogo storico di questa grande tradizione e significato, capitale lo è diventata. Non nel senso di capitale politica ma di capitale del tartufo. Capitale del tartufo, la perla della cucina, quella perla che riesce con i suoi odori, i suoi sapori a dare un salto di qualità a ciò che la cucina già di per sé di qualità offre in Toscana. E indubbiamente oggi che abbiamo un crescente numero di mostre mercato che danno il senso di come sempre più si coltivi la conoscenza dei luoghi dove sottoterra viene fuori il tartufo, che solo i cani addestrati riesce a emergere. Nella sua versione migliore in mezzo a una quarantina di mostre mercato e sagre del tartufo è quella di San Mignato, giunta alla 47esima edizione. E quindi dall'11 novembre per tre fine settimana il tartufo più prelibato di Toscana potrà emergere e venire fuori con una serie di manifestazioni che correderanno tre fine settimana lì sotto la rocca di Federico che motivava il nome di San Mignato al tedesco. Ma alla grande come sempre, quest'anno ancora di più perché ci sono davvero innumerevoli eventi. L'unica nota per ora dolente è che il tartufo ce n'è un po' poco e come al solito il prezzo è davvero alto, causa la siccità. Ma noi siamo convinti che tutti i visitatori che vorranno venire alla 47esima mostra nazionale del tartufo bianco avranno da degustare tantissimi prodotti e logicamente anche il tartufo bianco. E poi c'è una novità quest'anno perché la città vive anche il dopocena, quindi ci saranno tantissimi spettacoli all'auditorium della Cassa di risparmio di San Mignato per coloro che vorranno trattenersi ulteriormente a visitare la città e a degustare i nostri prodotti, a sentire della buona musica, perché no teatro o qualche altra cosa.